Davide Quello che mi viene in mente di Davide è sicuramente un momento, tra virgolette, goliardico, però allo stesso tempo agonistico. Il mio ricordo è sempre impresso, più che basket giocato ufficiale, basket campettario, come diciamo noi, dove giochiamo il Foranci, il campo quello serio dove gioca la gente buona, come diciamo noi, era la voglia e la determinazione di vincere anche nei momenti più banali. Non c'era una partita o un 3 contro 3 che finiva, ma se vinciamo noi o vincono gli altri, vinciamo noi, punto. La determinazione, la voglia e il talento che portava, al di là degli altri livelli che giocava in A1, lo portava anche in campetto. Quello è lo spirito che penso tutti i ragazzi che giocano questo fantastico sport devono avere e magari con il talento suo e ovviamente la determinazione è riuscito ad arrivare dove tanti giovani spero che un giorno possano compiere le geste sue. Un alleduto sicuramente, io con Davide ho giocato diverse volte contro sia le giovanili, quando lui era a Caserta, io ero a Venezia e poi tra virgolette abbiamo fatto un percorso inverso, quando lui era in A1 io ero in A2 e spesso sono andato a giocare nelle squadre dove aveva già calcato il parchè, quindi ho giocato a Pistoia, giocando a Caserta. Questi qua sono i due campi sicuramente dove hai lasciato un gran ricordo. E lo stesso mi ricordo, un aneddoto bello, quando abbiamo giocato il campionato, il precampionato quando giocavo con Napoli a Roma, prima della partita giocavamo e ovviamente ho fatto un riscaldamento e mi ho detto, caso non bastonarmi oggi, mi raccomando fammi giocare. E questa qua è una cosa che spesso mi viene in mente, questo flash qua di Davide, perché non bastonarmi, gioca tranquillo che non conta niente oggi, tra virgolette, però cerchiamo di giocare sul talento, non facciamoci male prima dell'inizio della stagione. Questa qua è una cosa un po' simpatica, diciamo, che ho in mente di Davide, che mi ha lasciato tra le tante cose che abbiamo vissuto magari assieme. Questa qua è una cosa un po' simpatica, diciamo, che ho in mente di Davide, che ho in mente di Davide, che ho in mente di Davide. Grazie a tutti.